Ciao a tutti, sono David e sono un ragazzo di Roma di 17 anni. In circa un anno fa ho avuto una brutta notizia, cioè che mi sono ammalato di cancro. Ma il Signore non mi ha mai ammalato in questo. Ciao, sono Diana, è la mamma di David e lui è Gabriele. Io sono i 3 anni di Davide. Quando abbiamo scoperto con una risonanza magnetica che aveva un osteosarcoma maligno al vaccino, fin dall'inizio lui era a conoscenza della sua malattia, affrontato tutto con amore, e offrendo la sua vita ogni giorno, vivendola benissimo, in pienezza e uscendo con gli amici. Delle volte usciva anche senza stampelle. Si confessava sempre il più possibile perché voleva essere puro davanti ad accogliere il Signore dentro di sé. E diceva questo, che il Signore gli stava sempre vicino, che gli dava un amore impressionante, che non poteva fare altro che ricambiare questo amore. E infatti ogni volta che incontrava le persone aveva una gioia, una profondità, che abbracciava con un amore, veramente. Riusciva ad entrare in empatia con tutte le persone che lo incontravano, anche in ospedale. Poi siamo andati a Meggiugorie e anche lì lui non avrebbe potuto fare quei percorsi difficilissimi, però con l'aiuto di Dio, con una stampella soltanto, si è arrampicato fino in alto in tutti i due percorsi e l'ha offerti al Signore. Ogni volta che lui soffriva, veramente offriva dicendo «Te lo dono a te, Signore, pensaci tu a chi può servire». Tutto questo lui ha sempre avuto la gioia negli occhi e sempre la testimonianza, anche se non riusciva a parlare tanto. Quando l'ho conosciuto lui era un ragazzo come tutti gli altri, molto semplice, si dedicava a fare le cose che fanno tutti i ragazzi, giocare, scherzare, faceva lo sport che gli piaceva. Mi sono accorto che lui c'era stato un cambiamento perché aveva scoperto di questa malattia. Ci sono stati delle fasi dove lui inizialmente faceva fatica ad accettare questa malattia, quasi come voleva ribellarsi in un certo senso. fin quando poi, all'improvviso, dopo aver fatto un'esperienza particolare del Signore durante la preghiera, lui è cambiato totalmente, è passato da non accettare più la malattia a proprio viverla a pieno. E lì c'è stato uno stravolgimento di David perché visibilmente dall'esterno si vedeva che era cambiato qualcosa. Lui era molto più gioioso, più sereno, più luminoso, più tranquillo e questo traspariva dall'esterno. Ecco, come diceva Francesco, io ho ricevuto tanto da David. È strano perché per il nostro stato, siamo dei consacrati, uno si aspetta di dover dare quando incontra degli ammalati, delle persone. E invece io ho ricevuto, ho ricevuto e basta. Noi avevamo un rapporto molto particolare, nel senso che non abbiamo mai parlato della sua malattia, mai. I nostri discorsi erano sulla vita. E la cosa bella, che ricordo proprio di lui, è il fatto che quando parlavamo mi riusciva a trasmettere questa voglia di vivere. La vita, cioè proprio mi divertivo per niente, anche se eravamo insieme, mangiavamo, non so, vicino a lui era tutto diverso. Tutto acquistava un sapore che era proprio capace di trasmettere questo, la vita. Era un ricercatore della verità, si faceva sempre tante domande, odiava i pregiudizi. E veramente questo mi ha fatto riflettere tanto sulla ricerca, sulla ricerca proprio di un rapporto autentico di fede col Signore. Ho conosciuto David quando era ancora malato, quando era già malato. Mi ha sempre colpito appunto questa sua perseveranza nella fede. Nel nostro gruppo non ci sono molti maschi e che lui veniva sempre, nonostante lui sapesse che non veniva nessun maschio a dormire. E questo mostrava appunto la sua perseveranza nella fede, come non gli importasse niente, ma solo di essere presente all'incontro, che per lui era molto importante. Al campo invernale dei giovani di Betania, lui ha dato la sua testimonianza della croce che si portava comunque, della sua malattia. E devo dire che mi ha commosso tantissimo a un certo punto. E gliel'ho detto pure, ha detto, cioè è stato un momento bellissimo per me. Comunque vedere questo ragazzo della mia stessa età con così tanta fede mi ha sempre colpito tantissimo. Vedere comunque un cancro che lo consumava piano piano, comunque lui riusciva sempre a mettere la felicità degli altri prima della sua. Riusciva sempre a... lo vedevi sempre col sorriso, sempre... ti abbracciava e... E' una profondità incredibile, una sensibilità grandissima. Mi ha confidato che aveva il desiderio di essere sacerdote e... E mi ricordo che diceva, sai Ale, se Gesù volesse che io guarissi, mi piacerebbe tanto, no? Poter incominciare un cammino da sacerdote. Mi ricordo solo qui che gli ho detto, guarda, sai che in virtù del battesimo, no? Il sacerdozio universale a cui tutti apparteniamo, tu se durante la messa già ti unisci a sacerdote mentre alza il pane, no? Ti unisci a Gesù sulla croce, ti unisci a quell'offerta che ha fatto di se stesso, già stai partecipando di quel sacerdote, no? Che vuoi. E da quella volta vedi proprio come viveva la messa, specialmente nel momento della consacrazione. Cioè, era una cosa che... Cioè, se tu stavi un attimo lì a guardarlo, pensando tutto quello che stava vivendo, cioè, ti emozionavi, no? Cioè, ti faceva parte di quel mistero lì, sembrava proprio... come se lui, cioè, stesse sul calvario e vedesse tutto quello che stava succedendo in quel momento, no? Ci lasciava totalmente rapire e si abbandonava totalmente a quel mistero grandissimo che noi non vediamo, ma che sappiamo più accede che succede. La cosa che mi ha impressionato subito è stato l'affetto con il quale mi ha accolto, anche senza conoscermi, insomma, erano famosi per tutti noi i suoi abbracci, che erano proprio degli abbracci avvolgenti e carichi di un amore che superava lui stesso, ecco. Io non mi ricordo di aver mai incontrato qualcuno che... anche tra i consacrati, ecco, a meno che non fosse veramente un uomo di Dio, una donna di Dio, che facesse della volontà di Dio veramente il motore dell'abilità. Ma non una volontà intesa come una spada che ti piomba addosso, quindi che tu per forza devi... una strada che devi percorrere portandoti un carico, ma l'accoglienza di un amore. Dio è amore e quando lui ama non vuole niente di meglio che quello che mi succede. Questa fede che lui diceva a parole era concretezza nella sua vita, ecco, non si contraddiceva mai. Cioè, la cosa che io ho notato con grande stupore e con grande ammirazione è che lui chiudeva la porta della camera e era uguale a se stesso. Non era così con i ragazzi perché doveva farsi vedere forte, ma era così perché era di Gesù. Vedere che un ragazzo di 17 anni è riuscito ad abbandonare tutto e ad aderire completamente la volontà di Dio, per me oggi, fra Francesco, consacrato nella Fraternità di Bedania, è un grande segno, un grande testimonianza di abbandono, di santità. In questi giorni mi veniva in mente il Passo del Vangelo dei Cinque Pani e Due Pesci e questo l'ho ricollegato un sacco a Davide perché ho pensato ai pochi doni o ai tanti doni che abbiamo. e che siamo chiamati a donare. I nostri pesci da dare alla gente e a quanto bene possono fare. Cioè, i nostri pesci da dare a Gesù che lui trasforma in bene per tanti. Il funerale, la gente che c'era e cosa gli è rimasto impresso a quelle persone e poi le persone che chiedono di lui. Cioè, comunque rimasta in pezzo la sua storia e segna ancora molte persone e penso che i suoi frutti ancora si vedranno per un sacco di tempo. David, che dire, l'ho conosciuto a ottobre del 2014, alle nostre prime casechesi insieme. Buongiorno, sono Laura, l'insegnante di educazione fisica del liceo di David. Ho appena finito di vedere, sentire il suo filmato e per me è diventato un angelo custode da persona speciale che era. Sono rimasto colpito da questo ragazzo e da questa storia in un modo incredibile, del messaggio che ha mandato David. La speranza, la fede e anche il desiderio di poter accogliere appunto come conseguenza la conversione. E ho scoperto da subito che era un ragazzo straordinario perché ogni volta che ci si avvicinava o si parlava con lui era sempre pieno dell'amore di Dio. Era veramente un dipinto di Dio, l'ho sempre visto così dal primo giorno. E ci insegna a vivere, ad affrontare, ad accettare il volere di Dio, no? Ma come dice David, io che avevo il controllo della mia vita ho capito che non dovevo averlo, ma mi dovevo dare, affidare la mia vita a Dio. Mi diceva sempre non mollare, è importante Cristo, tu devi poggiare su di Lui e il tuo matrimonio deve poggiare su di Lui. E quindi per assurdo Lui guariva me, sempre visto così. Conto di riuscire ad organizzare, col suo aiuto ce la faremo sicuramente, un torneo di pallavolo dedicato a lui, per David, questa è alta. Grazie. Si potrebbero dire tantissime cose, ma vorrei concludere dicendo che quando gli dicevo, guarda David, io prego, prego tanto per te e offro, offro anche quello che posso al Signore perché tu guarisca, e lui mi diceva sempre, guarda Michela non ho bisogno di superare questa malattia, prega solamente perché sia fatta la volontà di Dio, perché se sarà così in ogni modo andrà e io avrò vinto e nulla potrà essere meglio di così. Ecco, più di questo, questo era David, ti voglio bene. Ciao, sono Jacopo Sisti, sono un amico di David. Sono Gabriele, ho 17 anni, ho fatto 5 anni di posteresimo con David. Ciao, sono Mattia, ho 18 anni, conosco David da 5 anni. E devo rendere l'odio a Dio perché David mi ha dimostrato come nel combattere c'è bisogno di una virilità, c'è bisogno di non stare attaccati a Dio. Ho sempre detto di non sprecare la vita e di utilizzarla al meglio, io è quello che faccio ogni giorno. Per me è stato e sarà per sempre un fratello, infatti grazie a lui, a come lui è riuscito ad affrontare la sua malattia, felicemente anche accanto a Dio, è una dimostrazione netta di come Dio esiste e che vivendo con lui si può veramente vivere in maniera felice. Questa felicità te la può dare solo Dio. Io sono testimone di questo aiuto che Dio ha dato a David perché ho visto che lui nel combattimento è rimasto. Ciao, sono Stefano e volevo ringraziare David. L'ultimo discorso che ho avuto con lui è stato lui che diceva a me, guarda non preoccuparti, è il Signore che non mi molla mai. E questa testimonianza di questo nostro fratello mi ha aiutato a proprio avere una conferma ancora più netta e più forte che il Signore anche a me vuole far capire come David, che lui è vicino, non ci molla, che la vita è fatta per essere felici e che dopo la morte c'è la vita e anche qua possiamo essere felici, il centro proprio di cui parlava e di cui ci parla Gesù. Quindi grazie. Sei in grande David. Mi ricordo che lui mi consolava a me e invece di io consolare lui mi ha detto forza spogati e mi metterlo abbraggiavo. Cioè se tu pensi, non credo a niente, per me non c'è nessun Dio, mi trovo in questo mondo, ho un tumore, un cancro e sto per morire. Alla fine il tuo stesso Dio ha sofferto, cioè il tuo Dio ha sofferto le stesse sofferenze che stai soffrendo te, forse anche di più e ti aiuta ad accettare quella malattia e a trasformarla come bene per gli altri. Cioè noi abbiamo un Dio che non è stato sempre lì, sopra le persone, lui era che dovevamo inginocchiarci davanti perché lui era il migliore nel mondo, ma è stato deriso, è stato messo in croce e ha sofferto come soffriamo noi. In quei giorni, ultimi giorni di vita, siccome non riusciva a respirare, i medici mi hanno detto possiamo dargli qualche cosa per sedarlo? E noi abbiamo detto sì, però aspettate perché lui vuole vedere le persone, vuole salutarle, vuole parlare. Infatti fino all'ultimo ha dato testimonianza anche ai suoi amici che erano ribellati da questa storia sua, che non credevano pienamente nel Signore, anzi si erano allontanati perché pensavano che Dio non potesse fare questa cosa che esiste. E invece lui, fino all'ultimo, gli ha detto io sono così, lo vedi che sto qui, ma proprio perché Dio esiste che sto qui e in questo modo che non sono disperato, sono nella gioia, mi vedi che sono sereno. Sono venuti i suoi compagni di scuola che erano magari lontani da Dio e invece per stare con Lui hanno fatto rosario, hanno fatto delle preghiere ed è veramente una grazia vedere come anche loro che erano lontani, non hanno avuto paura di vedere Davide così, che stava magari nella sofferenza, ma gli sono stati vicino e attraverso la preghiera hanno visto che Dio fa bene tutte le cose. Come Gesù ha avuto questa agonia dal giovedì sera, è entrato in agonia dal giovedì sera e domenica mattina alle sette e mezza è andato in cielo. E come Gesù si è conformato alla sua sofferenza, però poi quando è andato in cielo, quella mattina è apparso in sogno a una bambina che fa il post-crisimo con il mio secondo figlio, Alessandro, e gli ha detto delle cose che aveva detto soltanto a me e al padre prima di morire. Infatti ci ha chiamato prima di morire e ci ha detto come ci dovevamo comportare tra di noi, tra me e mio marito, che litigavamo spesso, invece diceva guardate che fa male ascoltare le vostre litigate, a Gabriele e ad Alessandro, e quindi non litigate, fatelo per me. E poi ci ha detto come ci dovevamo comportare con loro, di non pensare al vuoto scolastico, ma pensare alla persona. Grazie è stato un esempio. Io che, ecco, impegnamente mi sono trovato negli ultimi mesi a ricoprire il ruolo del suo padre spirituale, del suo confessore. Prima cosa che mi ha detto quando mi sono seduto accanto al suo letto, gli ho stretto la mano, nonostante che avesse il respiratore, perché le metastasi e i polmoni ormai erano molto ampie, faceva molta fatica a respirare, secco spingendogli la mano, ho potuto ascoltare anche e ricedere quella sua parte umana, fragile. La prima cosa che mi ha detto è che aveva paura, che era difficile vivere quel momento, e che si sentiva come quelli che fanno i bungee jumping, perché pur avendo la certezza che ci fosse, ecco, il Signore, aveva umanamente la percezione, ecco, del vuoto. Abbiamo portato l'atto di offerta che Santa Teresa di Gesù, bambino, fece al volto santo di Gesù. David poteva parlare pochissimo, una mano stringeva fra Pierluigi e l'altra stringeva fra Andrea, e io gli ho detto non ti preoccupare, ti presto la mia voce, se non puoi parlare lo dico io, la preghiera per te. Allora ad ogni capoverso mi fermavo, e lui confermava quanto era detto nella preghiera, con un grande Amen, e ripeteva Amen ogni volta che io mi fermavo. È stata una grande gioia e un grande esempio per me. È un trionfo la sua vita, questo coraggio, questo inno alla vita, non è stato una morte, ma è stato un passaggio per la vita eterna, perché la vita non finisce mai, si nasce per non morire mai più, e quindi lui ci ha dato prova di questo. La chiesa infatti al suo funerale era strapiena, soprattutto di giovani, e la messa è stata una festa, non è stata un funerale, è stata una grande gioia di risoluzione. Si è abbandonato nelle braccia del Signore, ed è stato bellissimo, perché ha dato una testimonianza di come non si deve avere paura della morte, è soltanto un passaggio. Io vorrei dire anche a tutte le persone che hanno perso un figlio, o una persona cara, che non ha avere paura, perché la vita non è tolta, è solo trasformata. Anche Don Pierangelo me lo diceva, vedrai che quando lui andrà in cielo, un pezzo di te si trasfigurerà, e sarai nella gioia, ed è stato veramente così. E' incredibile come appena lui è andato in cielo, noi stavamo nella gioia, e tutti i medici e infermieri che venivano lì, invece di consolarsi, erano consolati da noi, perché era veramente una nascita in cielo. Lui ha sofferto, sì è vero, ma adesso sta nella gloria, che è eternamente felice. E che cosa ti vuole avere un figlio? Che sia felice. E lui è felice per sempre, e ci aiuta, continua ad aiutarti. Allora, Davide, nella mia vita è stato un figlio bellissimo, perché mi ha insegnato molte cose, tra tutte le cose, mi ha insegnato una preghiera, che ora vi leggerò. pregate e pregate molto, ma non affinché io guarisca, perché non è questo l'importante, ma che sia fatta la sua volontà, perché ci sarà così, in ogni modo andrà. Io avrò vinto, e nulla potrà essere meglio di così. Ha chiesto però, cioè io sì, ti offro me stesso la mia sofferenza, però non far soffrire i miei genitori, tutti i miei parenti, soprattutto mia madre. Ed è stato veramente così, è stata una grazia del Signore. Io non ho sofferto, sono stata nella gioia, soprattutto, sia quando è andato in cielo, e soprattutto quando è stato il suo funerale, che non è stato un funerale triste, è stata una gioia. Io mi sentivo come essere la madre dello sposo, mi sentivo una festa molto più grande del diciottesimo che avrebbe fatto il 6 novembre, molto più grande di una festa di matrimonio. Non c'era paragone, era come se la terra e il cielo si fossero fusi. È stato vivere un anticipo del paradiso, veramente è stata una gioia incredibile per tutti noi. Un ragazzo normale, magari non avendo la possibilità di conoscere il Signore, avere questa notizia l'avrebbe messo nella disperazione, invece lui no. Sempre gioioso, sempre sereno, affrontava la vita come un dono. Infatti, nei suoi messaggi mi diceva io mi sento corteggiato da Dio, mi sento coccolato, ogni giorno fa di tutto per rendermi felice. Ed è veramente così, è bellissimo, è veramente bellissimo. grazie a tutti di qua. Poi sempre in quei momenti da solo in ospedale mi aveva detto che dovevo dire un sacco di gente che lui non è morto ma vive. quello che voglio dire alle persone è di chiedere forza a Davide perché è la stessa forza cioè a Davide gli ha dato al Dio la forza e come l'ha affrontata lui la malattia e la vita è stato un bel insegnamento. Ai giovani della mia età vorrei dire appunto di di non avere paura di abbandonarvi a quello che il Signore vuole da voi perché in un modo o nell'altro secondo me lui entrerà nella vostra vita e a un certo punto secondo me voi non potrete assolutamente dire di no perché farete esperienza di un amore così grande che appunto non potrete dire di no. È qualcosa di talmente proprio all'ennesima potenza, no? che che ti riempie che ti colma proprio è un amore che ti coccola proprio e appunto un giorno secondo me non riuscirete proprio a farne a meno. Vorrei dire di non avere paura di non avere paura della vita innanzitutto di non avere paura di andarci fino in fondo soprattutto di stuffarsi nell'avventura della fede che è veramente un Dio che ci ama e anche nelle prove nelle tempeste in tutte le turbulenze della vita veramente è un Dio che accompagna e che santifica. Davide aveva capito questa cosa qui che nelle difficoltà della vita non bisognava agganciarsi a dei surrogati quindi sì non abbiate non abbiate paura buon viaggio davide che dire di lui una non lo so una persona una persona che va di sopra di una cosa naturale cioè vedevi lui vedevi Dio tu non sei un amico qualunque sei stato il miglior compagno della nostra vita sei stato unico in tutto quello che hai fatto e lasciando un grande segno nelle nostre vite io sono convinto che la sua vita qui è servita anche se breve anche se può sembrare straziante però è servita è stato molto pure importante e pure molto perso di me mi ha sempre guidato mi ha veramente cambiato ero molto persa e lui mi ha aiutato la sua vita è stata davvero molto molto particolare e devo dire che è stato grazie a lui che ti ho conosciuto per la prima volta veramente Gesù Cristo aveva la capacità di donare tutto se stesso di mettere al centro il Signore di vivere questa malattia difficile Gesù fallo con me voglio respirarti ancora ci ha trasmesso molto Tavide specialmente nella sua morte sei riuscito a regalarci attimi che nessuno ci ha mai dato hai sempre messo per primo il bene degli altri e poi il tuo ci sei ad esempio con la tua grande fede ci hai insegnato ad amare Gesù come lo facevi tu accettando le prove più faticose perché avevi sempre la certezza che qualcosa qualsiasi cosa fosse successa era sempre la cosa migliore perché era voluta da Dio che ne sa molto di più di noi lo vedevi negli occhi non mi espivano i suoi occhi quando veniva in celebrazione nonostante la stanchezza e il sonno era felice era gioioso di celebrare la parola di Dio perché aveva capito tira in fondo una cosa che io gran parte di noi oggi ancora non siamo capito l'unica ponte di gioia è Dio ha lasciato veramente un tesoro un tesoro grandissimo mi ha veramente sconvolto la vita e soprattutto negli ultimi tre giorni prima del 18 che è morto parlava un pochetto a fatica e là veramente mi ha rincuorato io che piangevo come una matta ho visto in lui davvero una promessa che una promessa che Cristo ha fatto che si è mantenuto con lui l'ha reso davvero felice è davvero una cosa straordinaria perché come ha fatto a renderlo felice gli ha fondato un tumore che è una cosa cioè per il mondo è una cosa assurda forse la più brutta le sue parole il modo come lui parla sono una forza di conversione assoluta e veramente devo ringraziare il Signore per avermelo fatto conoscere per avermelo fatto fare fratello mi ha detto che starà sempre vicino a me ho avuto un periodo in cui mi ero allontanata dal Signore e mi ha fatto riavvicinare io di David posso dire che ho alcuni memoriali forti di quando gli è stato diagnosticato il cancro appunto quando mi è stato detto da lui in persona che gli è stato diagnosticato questo osteosarcoma io profondamente ho avuto una diciamo una mormorazione continua perché un ragazzo di 16 anni a cui viene diagnosticato un sarcoma cioè deve avere fatto veramente qualcosa di estremamente brutto per perché Dio gli desse una punizione del genere ecco che cosa quello che ho pensato ma veramente grazie a lui grazie alla sua fede grazie a insomma tutto quello che durante tutta questa malattia mi ha fatto vedere che lui l'ha affrontata con serenità David è stato sempre un po' il mio fratello più piccolo e quando penso a una persona felice sicuramente penso a David chi è per te Dio e David è con molta enfasi con molto trasporto dice per me Dio è tutto senza Dio non potrei vivere la cosa mi colpì particolarmente quando David aveva 16 anni scarsi e onestamente detto da un ragazzo così giovane un'affermazione così categorica e così diciamo partecipata mi lasciò molto perplesso la sua morte sembra strano dirlo ma la sua morte ha cambiato ha cambiato tante persone meglio gli ha fatto vedere veramente di come Dio agisce bene nelle vite attraverso una malattia tu puoi diventare qualcuno che veramente aspira a qualcosa di più grande aspira alla vita eterna alla felicità veramente la cosa ebbe conferma un anno e mezzo dopo in due ore di macchina tra le altre cose abbiamo parlato anche di religione di Dio e lui disse per me Dio è tutto dice a me Dio mi ha dato tutto mi ha dato qualsiasi cosa io volessi lui me l'ha data se lui anche volesse prendermi adesso e finire così la mia vita sarei felice perché non farebbe altro che accorciare il tempo che mi separa da lui mi ha lasciato un'impronta ben precisa nell'anima e in quello che sarà il mio cammino David è stato un ragazzo veramente normale una delle cose che mi ha insegnato David con la sua malattia è che i santi sono veramente persone normali che che lottano nelle difficoltà della vita come tutti noi e però David a un certo punto ha riconosciuto questo amore di Dio nella sua vita e riconoscere questo amore di Dio cambia tutto cambia proprio il modo di vivere le cose belle e le cose brutte le cose che fanno paura con le sue difficoltà con le sue tribolazioni mamma mi faceva vedere di come una malattia così importante lui la consegnava a Dio come fa un ragazzo così a essere così sereno davanti a una a una disgrazia perché alla fine io la consideravo una disgrazia del genere e veramente a un certo punto ho quasi pensato di volere essere come lui perché dico ma ha tutta questa pace dentro ma come fa perché e ancora veramente non me lo so spiegare è stato è stato un dono è stato un dono per me è stato un dono per la nostra comunità era un periodo che stavo un sacco male cioè stavo male e l'unico che aveva sempre quella parola che mi riusciva a aiutare insieme a cioè che si vedeva proprio che era Dio che parlava tramite lui era lui e quindi posso dire che lui Dio l'ha visto ma l'ha visto già da prima di sta male già da cioè lui è sempre ci ha fatto sempre di stimolianza su quanto Dio era grande una sensazione particolarissima non c'era aria di morte in quella stanza né aria di sofferenza ma era tutta convogliata verso qualcuno che accompagnava sia David che noi David è una persona che con cui io mi sono sempre scontrata perché era una persona estrema in quello in cui credeva gli estremismi alla mia generazione fanno tanta paura e noi siamo una generazione che pensa che è importante essere diplomatici che la verità sta nel mezzo che in fondo è sempre meglio non schierarsi più di tanto io sono mamma a vedere quella mamma che benediva Dio per tutto ciò che lei aveva donato è stata una disperanza fortissima e quindi io ho sempre visto questo ragazzo così che mi diceva le cose in modo così deciso così estremo così sicuro e io in qualche modo sbagliando cercavo di smorzare questa sua passione di dirgli David però cerca di essere più moderato non è necessario essere così estremi nella religione sì siamo cristiani però con calma e invece David mi ha mostrato poi nella sua malattia ma come aveva cercato sempre di mostrarmi nella sua vita che la vita è una cosa seria e che nelle cose serie la tiepidità l'essere tiepidi non paga quella parola che uscì a lui da tanti anni fa nel campo stile di giudità che diceva proprio ti morirai presso il tuo re e sarai famoso in tutto il mondo si è avverata io l'estate scorsa in luglio ho partecipato a una missione evangelica in Umbria ho incontrato proprio un gruppo della post-crisima di Reggio Calabria e appena ho citato il nome di David loro già lo conoscevano e questo veramente si sta realizzando la sua fama è già famoso è già importante lui col suo essere così estremo così deciso col suo ricercare la fede in modo così forte senza via di mezzo è riuscito veramente a vivere da tanto questa malattia che lui aveva scoperto qualcosa che va oltre la la limitatezza di come un essere umano può interpretare un tumore e quindi negli ultimi giorni questo si è reso ancora più forte questa sua convinzione che che non era uno sfortunato ma che stava ricevendo tantissime grazie e era un via vai di persone in quella stanza entravano soprattutto tantissimi giovani e lui stava lì fino a quando è stato sveglio a dare pace a dare coraggio a dare forza a tutti noi e anche dopo in quella stanza c'era una pace che in pochissimi altri posti forse si può trovare non c'era assolutamente la morte in quella stanza c'era la vita quello che mi ha colpito di irritare è stata la sua virilità e questo io glielo ho detto il giovedì quando ho vogliato l'agonia perché ho potuto vedere come come davvero è stato un uomo virile che cosa significa essere un uomo virile ora la sua virilità è stata proprio che non ha maledetto Dio e quei dolori in quei momenti aveva dei dolori fortissimi anzi era lì e accettava la volta di Dio e questo a me mi ha colpito mi ha colpito tantissimo un giorno riaccompagnandolo a casa io gli ho chiesto se aveva paura della sofferenza di soffrire della malattia e lui mi disse di no e non aveva neanche paura della morte in realtà la sua più grande preoccupazione era quella che la madre soffrisse io sono Tommaso di Inghilterra un amico di Davide io e Davide e la famiglia di Davide noi siamo in concetto qui a Medjugorje quando loro sono sul peregrinaggio l'anno scorso novembre ho visto lui perché lui è seduto vicino io nella messa e ho visto lui sulla stampelle ho detto a lui ma che è successo con il tuo che è la problema con il tuo salute perché io sono nella carrozzina e ho pensato una cosa simile no? fin da subito fin da quando avevate 10 anni 18-18 anni e soprattutto successivamente con la malattia è stato appunto questo suo zero questo suo entusiasmo nella luce dei fisici e lui ha detto io ce l'ho cancro il mio primo emozione è di è di cistezza no? di per la sofferenza ma lui ha detto a me ma se questo è la volontà di Dio io vorrei fare la volontà di Dio e quando lui ha detto questo sono io sono molto toccata volerà che gli altri incontrassero questo come l'ha incontrato lui e quindi quello che era risolto dalla chiesa potesse arrivare anche gli altri la sofferenza non è una cosa semplice ma quando lui ha detto questo lui ha lasciato una luce della mia vita la vita di lui era abbastanza corta ma la vita di lui ha lasciato una grande impressione della mia vita e delle vite di tutti che conosci lui ciao Sara ciao ti presento questo talento che ho conosciuto al campo che ti racconta in quattro battute la sua storia e ti fa un video messaggio perché potresti essere molto amici allora anch'io ho un problema a livello tumorale ho un cancro al bacino e mi è iniziato l'anno scorso quando avevo ancora 16 anni è stato difficile all'inizio però quando cercavo di fare tutto con le mie forze era brutto e impossibile quando sono riuscito per grazie di Dio non grazie a me ad offrire tutto a Dio le malattie le sofferenze e anche quello che non riuscimo a capire è diventato tutto molto più semplice e molto più bello perché si vede concretamente che c'è l'aiuto del Signore in queste cose e vedo insomma che comunque anche qui da come mi hanno parlato di te sei una persona che ci mette questa voglia di di offrire tutto a Dio e questa è la cosa importante grazie mi fa il piacere di averti conosciuto anche attraverso un video così grazie ciao grazie a tutti